Salve, buonasera a tutti, la seduta per quanto riguarda le borse europee si chiude con grossi guadagni, infatti rispetto alla seduta di ieri che hanno quasi tutti i distini, i principali distini hanno chiuso intorno alla parità, oggi invece hanno tutti chiusi al di sopra del punto percentuale, sfruttando soprattutto le indicazioni migliori delle attese arrivate dall'indice Zev tedesco sulle aspettative economiche. Vediamo quindi che cosa è successo, il DAX è chiuso al più 2,41%, l'Ibex al più 2,36%, il CAC a 2,77%, il FUTS di Londra a 1,99% e infine Piazza Affari con il suo FUTS Mib che chiude le contrattazioni al più 2,28%. Durante la sessione europea abbiamo assistito alla pubblicazione di due market mover iniziando dalla Gran Bretagna con l'inflazione che è rimasta nel mese di ottobre in territorio negativo segnando una variazione annua del meno 0,1% in linea con la lettura di settembre, mentre invece per quanto riguarda l'indice PMI della Germania sale a 10,4 punti nel mese di novembre, questo ricordiamo che è l'indice che misura la fiducia degli investitori tedeschi in relazione appunto alla crescita economica che come ho detto prima si è attestato a 10,4 punti in ribasso rispetto agli 1,9% del mese precedente. Poi durante la sessione americana nel pomeriggio abbiamo altri due dati importanti macroeconomici con l'indice di prezzi al consumo che è aumentato nel mese di ottobre allo 0,2% contro il meno 0,2% del mese di settembre. Il dato è conforme alle previsioni degli analisti. E infine abbiamo sempre dagli Stati Uniti la produzione industriale che risulta nel mese di ottobre in contrazione dello 0,2% in linea con il dato del mese precedente ma inferiore alle attese. Domani mercoledì 18 novembre avremo solo due market mover importanti alle ore 13 dagli Stati Uniti le richieste dei mutui e alle ore 20 abbiamo il meeting del FOMC con la minute della Fed. Ora passiamo invece all'analisi tecnografica prendendo come punto di riferimento soprattutto partendo appunto dall'euro dollaro. Per quanto riguarda l'euro dollaro per chi già mi ha seguito già domenica 6 nell'ultimo post settimanale anche nell'analisi di ieri vediamo che noi già siamo a mercato short e prosegue appunto la discesa della coppia euro che vede contrapposti l'euro dollaro americano che oggi si è portato fino a toccare un minimo a 1,06 e 30. Ieri invece gli investitori hanno cercato rifugio del dollaro dopo gli attacchi terroristici di venerdì a Parigi che sono costati appunto come noi ben sappiamo circa 125, la morte di 125 persone. Nell'ultimo mese l'euro è sceso del 6% nei confronti del dollaro americano sulle rinnovate aspettative di divergenti politiche monetari tra la Federal Reserve e la BCE. In particolare però dobbiamo ricordare che è cresciuta in maniera esponenziale la probabilità che nel prossimo meeting del 15-16 dicembre molto probabilmente la Fed potrebbe ritoccare a rialzo i tassi di interesse per la prima volta dal 2006. Ritornando all'analisi tecnografica quindi abbiamo detto che praticamente oggi abbiamo avuto quest'altro movimento short che appunto è iniziato su questo punto di swing high in concomitanza non appena il prezzo la coppia ha toccato questa fascia di resistenza tra 1, 08 e 1, 08 e 17. Quindi praticamente abbiamo queste prime tre sedute consecutive ribassiste. Al momento abbiamo detto che io sono entrato al mercato short per chi mi ha seguito praticamente alla nostra operazione siamo a circa 70 punti. Ripeto che abbiamo messo, ho messo il target sotto a un po' più sopra del prossimo supporto e precisamente a 1, 05 e 30. Anche per quando vedete l'RSI qua già mi ha segnalato con questa freccia a ribasso questo movimento short. Passiamo all'USD Yen, qua praticamente oggi abbiamo un altro movimento rialzista rispetto però diciamo qua si vede la differenza fra ieri e oggi. Ieri abbiamo una forte esplosione di volatilità mentre oggi abbiamo una volatilità diciamo in un range di circa 40 punti. Attendo il prezzo sopra la resistenza mensile questa di colore verde al 194 e 10 per vedere poi che cosa succede per poter poi decidere sul da farsi. Mentre invece per quanto riguarda il cable anche qua nel rettangolo verde io ho evidenziato come già appunto nelle scorse sedute, le scorse analisi per chi mi ha seguito appunto qua ho già evidenziato questo punto di swing high dopo questa fase di correzione rialzista all'interno di questo movimento di medio periodo che inizia esattamente il 15 ottobre vedete tutti i massimi e minimi crescenti. Quindi qua è la fine della correzione quindi che evidenzia questo swing high dovuto praticamente a questo massimo che è superiore al massimo della candela precedente e quella della candela successiva. Anche qua ho inserito un pendente a mercato che è stato triggerato solamente oggi è cosa è successo che con il dato sull'inflazione il prezzo è scattato e risalito verso sopra fino a poi correggere nel corso della seconda parte della seduta ed adesso siamo in area 1.52 e 10. In questo momento è in formazione quasi una doge, mancano circa un'ora e mezza dalla chiusura dei mercati ma ritengo che molto probabilmente domani potremo assistere a un movimento short. Ora arriviamo invece a AU2SD. AU2SD anche qua vedete abbiamo è la stessa situazione identica a quella che abbiamo incontrato su cable. Movimento short iniziato un train iniziato esattamente il 12 ottobre prima fase prima fase di impulso correzione espansione un'altra correzione data dalla chiusura con lo swing high questo qua ho messo già un pendente con stop loss praticamente a 0.7140 entri poi in 0.7070 target 0.6950 resta ancora valdo quindi non diciamo attendo la rottura dell'ingresso al mercato del pendente ora passiamo a usd card il movimento ribassista di oggi seppure con un ritracciamento diciamo sul finire di seduta conferma il punto di swing high in prossimità del massimo della seduta di ieri inoltre l'RSI inizia ad accennare un leggero movimento spostandosi anche se minimamente al di sotto del livello 80 che delimita appunto la zona di percomprato. Tale indicazioni sia dell'RSI sia dell'analisi tecnografica che abbiamo visto prima mi conferma che ci sono buone probabilità di una nuova fase di correzione del movimento di breve rialzista però ovviamente qua siamo in contro trend perché io ho inserito un pendente short in contro trend quindi cerchiamo di aggiustare di limitare di dimezzare la size di ingresso ok quindi inoltre un altro elemento a favore di un possibile movimento bearish è dato dal rimbalzo verso il basso che la coppia ha subito non appena appunto vedete qua non appena ha toccato questa resistenza 1.3360 questa resistenza di colore rosso giornaliera dalle indicazioni quindi ieri perché per chi mi ha seguito ho deciso di anticipare le mosse del mercato inserendo in macchina un pendente di vendita rottura del minimo della candela di ieri vedete qua al momento non è stato triggerato però lascio tutto come sta lascio l'operazione a mercato ok poi passiamo a New Zealand dollaro qua abbiamo un'area molto importante vedete il prezzo è arrivato a testare quest'area tra 0.6450 e 0.6470 dove ci sono questi due supporti giornalieri inoltre l'RSA si trova all'interno del livello vendi quindi in zona iper venduto e quindi molto probabilmente da qua potremmo assistere nel già da domani molto probabilmente ad un movimento long anzi che cosa faccio adesso praticamente vado a inserire un pendente con uno stop loss un pendente di acquisto con in pratica uno stop loss esattamente a 0.6440 quindi metto un buy stop a 0.6440 lo stop loss qui il prezzo di ingresso lo vado a mettere a 0.6470 quindi entry point a 0.6470 e il target lo vado a mettere un po' più sotto alla prossima resistenza a 0.67 a 0.67 ok poi vediamo euro gbp euro gbp anche qua le votazioni si trovano al test vedete di una importante area qui tra due support uno settimanale e un altro giornalino quindi teniamo monitorato per le prossime giornate dove possiamo avere degli ottimi spunti di ingresso a mercato il movimento è sempre short il trend è sempre di bassista poi gbpn anche qua abbiamo un movimento long quindi aspetto una correzione per poter entrare poi a mercato e infine euro au d dove anche qua vedete ehm l'rsi vedete continua a mantenersi di sotto il livello di per venduto cioè sotto il livello 20 ciò implica che i venditori hanno ancora forze per moversi al ribasso e infatti c'è stata la rottura di questo livello che è stato testato a diversi di questo supporto settimanale di colore blu dove io ho evidenziato con il rettangolo verde che è stato per parecchie volte in passato testato ehm se conferma la rottura io attenderò il prezzo più giusto sul supporto 1.04.1.47.60 per poi decidere sul da farsi non ci sono altre ehm operazioni oppure altri ehm scenari interessanti e quindi ehm ci aggiorniamo direttamente a domani sera buonasera a tutti e grazie per l'attenzione ciao ciao ciao